Il sindaco ha detto che se non approdirete, ma devono chiederlo in questo momento, darà a tutti voi i cittadini di Porto Torres, il peso 5-6 mila euro. Non credete ai politici. Deve non vale. Allora, da poco ho visto... Anche il sindaco ha fatto dei promizi, mi ha detto un po' fa, sembrava uno spettacolo nostro. Siamo colleghi, siamo colleghi. Ora possiamo iniziare a dire...